L'altro giorno stavo curiosando tra i post della community di matrimonio.com e mi sono resa conto di una cosa. Sapete qual è la domanda che tutti gli sposi si fanno? Come calcolo il preventivo per il mio matrimonio? Non possiamo dirti esattamente quanto vi costerà organizzare il vostro matrimonio, però sì, siamo consapevoli di quanto sia importante. Per questo motivo vogliamo ripassare assieme i punti principali da tenere in considerazione quando calcoliamo il budget per il nostro matrimonio. Possiamo iniziare a elencare quelli che sono i costi, come la location, il vestito, la musica o il trasporto. Alla fine questi sembrano essere i principali quattro, vero? Beh, in realtà il mio consiglio è, quando iniziate a pensare al budget del vostro matrimonio, non dimenticatevi di questa lista, ma anche di questa. Gli altri extra, come ad esempio i trattamenti di bellezza, l'acquisto di un ulteriore outfit per la seconda parte dell'evento o l'ipotesi di dover noleggiare parte degli allestimenti, sono tutti dettagli che molto spesso non rientrano mai nella nostra prima stasura del budget. E se li sommiamo uno ad uno, già vi potete immaginare come sia facile perdere il filo. Già lo so che cosa mi state per chiedere. Come faccio a tenere tutto sotto controllo? E io ho la risposta per voi. Anzi, matrimonio.com. Vi presentiamo il nostro budgeter. Questo strumento lo potete trovare all'interno della sezione Le mie nozze e vi permetterà di tenere tutto sotto controllo, punto per punto, tutti i costi e le spese, che non potete assolutamente dimenticare. Un esempio? Tutti i dettagli, come appunto il trasporto, gli accessori e chi più ne ha più ne metta. Una volta che avremo terminato una lista con tutte le spese che vogliamo monitorare, potremmo poi tenerle sotto controllo durante tutto il tempo e controllare che nulla ci sfugga o ci porti fuori budget. Infine, possiamo addirittura vedere tutti i nostri costi raggruppati da un grafico e collegarlo con la lista nozze per realizzare un rapido bilancio. Facilissimo! Quindi, adesso sappiamo come tenere tutto sotto controllo e alla domanda come calcolo il preventivo per le mie nozze? Beh, adesso già abbiamo la risposta. Usate il budgeter di matrimonio.com per non perdervi neanche un centesimo. Per qualsiasi dubbio o domanda sul budgeter, lasciaci un tuo commento e ovviamente se ti è piaciuto questo video, metti like e iscriviti al nostro canale YouTube.